ora riprende vediamo 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 si vede adesso si vede non lo vedi già 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 no ma aspetta questa è una riproduzione o va non si vede no non si vede ma qualcuna parte di me l'ha visto appena adesso cioè si vede non vedo un caspio allora adesso a me si vede a me no anche adesso e quindi cosa era quello e quindi cos'è la live la live la chiusa adesso quella quella live se nera quella live di prima è rimasta e qui e ne hai perso un'altra va 3 minuti 18 3 minuti 18 abbiamo svolto ora parete che questo funzione 3 minuti 18 40 visualizzazione ok e nello schermo nero nello schermo nero ci sta ci sta dai raga è il bello della diretta ragazzi se no si chiamava in diretta ciao di nuovo a tutti ciao adesso saluto io a Sasi Fanta Carl Makou Saretta Sol chi più Marui e basta e Spadunatic allora per quelle per quelli che mi stanno chiedendo in privato di farsi mettere in bocci ragazzi noi siamo in tre in questo momento e parliamo già tanto perciò è meglio che non entri nessun altro e poi anche perché il re tiranno dice che è 3 il numero buono diciamo la verità il dittatore il dittatore di zona ha deciso che non dobbiamo essere più di 3 che è Jessica eccolo e mi ha tolto anche il joypad mi ha tolto e voglio fare almeno tre partite mentre gestisci adesso dovremmo fare dovremmo fare tipo oh grandi cercare cercare un bot no dobbiamo ciao Andrew buonasera c'è qualcosa che non capisco what's up hello Caime bella 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 hola Caime tutti quanti parlano di mie di me delle mie beach mi sento molto casual ah tu non lo sai questo fatto questa notizia in pratica in giugno ci sarà un avvenimento che dicono che sconvolgerà l'intero mondo riguardo a magari faccio una diretta e scusa ma è che che avvenimento vuoi essere oddio e dicono che riguarda il mondo e rispetto in generale non proprio oh dio fanno il crossover splatoon 1 uno splatoon 2 o no 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 mi sarebbe giusto una aprici dell'area si può essere tu dici si oppure fanno battare royal si ma questa sarebbe una pazzia quella sarebbe una pazzia si quella succederebbe mamma mia battere royal sarebbe il fatale hai capito ma perché tutto il mondo si dimentica di colorare ma è dubito che sia un ponte ragazzi è dubito anche che sia slavito 3 perché gioco presto stanno sparando spavano dalla regia doc puzza di Marco Marcio questo è un Ratti che decide di dire la sua quindi Marco sappilo gran parte mia è tua grazie 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 adesso almeno lo capiamo ma c'è Ratti capiamo quando è non so io non l'ho salutato ancora è la sua maniera di dire ciao adesso voglio vedere voglio vedere cos'è ragazzi voglio fare un un match no perché l'ho detto in inglese io che se vuole fare proprio il british dai quindi no non ci sono oh mio dio no non ci sono e ha fatto anche uno sparo alto oh Ratti ci ha pagato in dollari non so perché Ratti ci ha pagato in dollari come fai Ratti questo è stato grazie Ratti no ma raga per me è impossibile è stato un 1 porting no anche secondo me porting no può essere no è possibile perché dovrebbe fare un porting di un gioco che online come si dice ma il precedente di un gioco online cioè c'è già stato un 2 perché dovrebbero fare un porting ma non ma poi andrebbero a paragonare la potenza della switch alla Wii U no sono troppe cose che non vanno hai ragione tu e poi si e poi Splatoon 3 ragazzi cioè non è passato neanche un anno la Splatoon 2 eh ma Splatoon 2 è un port di Splatoon 1 dai io credo che questo è Splatoon 1 con un presupposto molto bajo e hanno disfrutato di è vero è una amichevole si hanno disfrutato del leccio che tenia un buon juego e hanno fatto solo un porting io questo non lo reputo Splatoon 3 2 io credo che Splatoon 3 sarà si guarda devo interrompire hola Kaylee Kaylee hola hola Kaylee Frank di Ceratti abbassa perché sono 10 dollari 8 euro pago meno ma la cifra donata è più alta che curvo mi son di oso oh e tra le altre cose penso che abbiamo già il numero di nuovo elevato di cari i ragazzi di Rochettinica sono felici delle stronzate che gli do la prossima settimana se 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 abbiamo altre casse ragazzi abbiamo altre tipo 20 casse da aprire oddio senti come abbaglia la zara oggi la bomba grande non c'è anch'io al stesso posto è caduto no è andato di gioco ma il mio cane è andato come è splotto è splotto attacco boh grande questo è un igo di sol boom no no ma non può essere splatoon 2 lo so cioè splatoon 3 lo so visto quanto è durato splatoon 1 è durato tantissimo si e splatoon 2 secondo me è durato altrettanto no 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 vedrai 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 non può essere qua ti do la controversia e ti dico no ti dico no perché splatoon 2 ragazzi vedrai che tra un po' la gente dirà è un port non lo dirò solo io perché cazzolina dai non avessi giocato tutti quegli anni ha splatoon 1 è migliorato sì 60 frame fanno la differenza ma tu che giochi cioè tu la gente che gioca in portatile gioca a 30 frame non gioca a 60 ragione per cui è uguale che ha splatoon 1 cioè la differenza l'ha nota solo chi gioca da casa cioè da televisore però ripeto sono sì sono 60 frame punto non uscirò la 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 non ho visto non ho visto non ho visto però veloce comunque lì infatti pubblicità in un live di una mia amica boom e ci arriveranno adesso lo spam il copyright diranno che ci siamo comprati gli 800 sub diranno di tutto grazie 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 adesso adesso è un handicap match sì handicap match sì è andata come andata la fortuna di incontrarti ancora andiamo attenzione attenzione max max io lo chiamessimo il nome già il poverino si chiamava calamaco è venuto qui no chiamati ma si è chiamato ma adesso lo chiamo marco tra un po' lo chiamo margot siamo quasi tutti noi eh raga c'è solo 89 gaming che non c'entra sarete io anche lo sapevo sono io che ti ho messo la reaction reaction io non parlo io ho detto reaction vediamo in partita ciao bello no non ho visto non sto molto dietro alla chat ragazzi oggi oggi è il compleanno della mia mammina quindi non sarò con voi ragazzi chi ha? come si dice auguri alla mamma di Sasi oh Sasi fai tanti tanti tantissimi auguri da parte nostra mamma e ovviamente devi stare sì non ti permettiamo di giocare con noi del disassino quindi torna domani oh lasciami in pace ucciso macco non vuoi a contare cister calco perché non mi gustano i cister ho deciso che non ho leggi ma cister di nadie ho deciso questa decision il ragazzo dai mille nomi hai anche cambiato Andrea in Andrea è vero però eravamo pochi del fatto Andrea sì però lo sapeva poca gente adesso lo sa adesso lo sa tutto il mondo adesso oh che esagerazione ciao Pier Pier mi dai la creativa mi dai la creativa doc doc la creativa doc per favore mi serve la creativa doc ecco ecco infatti perché non mi piace la creativa oggi è il mio plan ecco Non è il Prince Il Prince è qui Si, il Prince è qui Il Prince è il Prince No, è basato in una filosofia studiata perché penso che il humor è più che gli schismi gli schismi sono solo come un escalone se la escalera è il humor Basta Mamma mia Che Loli Oh Doc, dammi una creativa Doc, per favore Loli C'è Loli? Si Vai, Frank Loli Lola Lola Mi sa che ha sbagliato non ha capito che doveva cantare Ti ha strattato invece Stavo fumando Roggenlick Dice Loli Eh, eh Che siamo qui? Peinando la muñecas? Così si dice in Italia Crispi, c'è Marco Ma vaffanculo vai Ciao bello Ciao bello Markers in the Hell Na 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 Pe 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 Markers in the Hell E oggi Ma vaffanculo va E si raffирata La york il mio ricetto sulle mani si spaventa diciamo facciamo attenzioni private 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 con costa si sta trasformando in un bicantro poi qualcosa del genere il lupo mannale facendo i rumori che adesso vi lancio la ciabatta te lo giuro lo spara ciabatta 3 milioni il codice di oggi l'oleanza e matematica linguistica si cadà via mi chiede ma ora mi staria una mandata doc con i potenziamenti i vestiti posso tirare due bombe alla volta bravo bravo speriamo che ti si blocchi l'indice amiche così non ne puoi più lanciare bomb in ratti quindi noi in dollari domani ci farà la donazione in yen pensi ci dice ratti domani 15 yen per favore io non valgono niente vero sono come di riso stick no doc who built giant guest who Jobs gas now yeah it's for you all you have made for you thinking you I was his assistant but he made it totally himself snarky non lo conosci la creativa snarky la creativa snarky la creativa per favore devo costruire doc madre mia yeah soul and I made a photo today with you near the your big school tour I will make it a high now but it's a dangerous place there come la creativa porfavor la creativa dame la creativa porfavor ok la creativa sorry guys attenzione che se no il criceto di saletta si spaventa anche che bellissimo chiederlo Flavio! dov'è Flavio? ho ancora visto Flavio sono sicura c'è un Flavio da queste parti deve fare la pasta ci serve un Flavio! butta la pasta! ma poi buttala dove? ma perché butta la pasta? questo io non capisco quando si trasforma questo guarda quello è maco due bombe lo identifico già già ho paura oddio guarda guarda testa di cazzo no non ce l'ho con te snarky tranquillo il segreti pierre il ritorno che merda io pensi che voi serien setecento sono cento anni poi noi stiamo tirando un po' di miedo è davvero? io ti metto un po' di miedo è davvero? io ti metto un po' di miedo è davvero? cocco il campanello no che veramente ti infile il becone nella coda? eh? eh cocco! questo manco manco aiuto madonna! ma se vado a farmi uno shampoo? chi è? fantà fantà è scappato dall'altra parte del tipo tutti i soldi vi voglio come il mio vicino è chiaro flor? flor? ho detto flor no io guardo io analizzo ok oh pezzo di solda il mio cagnolino preferito wow è l'acqua mi sa che cocco vuole qualcosa sai necessità di attenzione e cure wow ciao ciao no 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 perché non ci sta vedendo la live perché è laggiù in fondo eh lo porto un po' di qua si cocco adesso vieni amore te le trasporti qua si te le trasporta di qua cocco fai il supersalto siamo sul blocco sol sol è che già si riconosce oggi you're recognizable from far io ho bisogno di più partite per giocare queste live perché entrare e fare quattro partite al giorno è vero Sara è sta logica no non voglio essere sorda poi come sei con le live guardandole è vero curate il vostro dito ragazzi pulitevi le orecchie tutti i giorni due volte al giorno aiuta cocchino ma che ne sai tu della live tu saluta cocco ah non lo metti lì no lo metti l'opposto si si se no rimane rinchiato ci passi tanto sembra un bambino su un tavolo enorme di scuola eh guarda un bambino vecchio su un tavolo da scuola enorme così ah 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 ciao Omar video Omar quanto è bello ispiro tanto sentimento ultimo doc no ah basta Flor Flor non lo conosce mi sa che è meglio rifare la stanza sai quindi qua quindi ho detto quindi posso dire 777 sopra ogni cosa anzi no dai dai road to mille il dottore vuole passare da dottore 2 a dottore 3 0 boom vuole imperativo volere io cicoria cicoria non è una inserata ciao ciao oh iuri iuri grande iuri come stai mi saluti grazie bello ciao ciao e ciao cocco leggete tu prima doc mi metto a giocare con un coso in testa non volete giocare mica grazie quando la iphone era essenziale no a me sanguina agli occhi leggere igodi come ipod con la ipod alessandro 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 al sicuro sei a letto mille non mi legge nel pensiero alessandro riesce a leggermi nel pensiero no no iuri cosa succede ok so don't worry dai dai stocco sweet 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 la creativa io non capisco cosa succede in questi momenti dove abbiamo 16-18 persone che siamo insieme a giocare molto semplice molto semplice come ha parlato italiano ah si è bloccato l'anfratto ok cosa cazzo è successo come mai hai accettato ad andare lì l'ho fatto da solo non può handicap match dai facciamo un handicap match e gioco contro Marco la creativa doc la creativa doc la creativa doc per favore non posso ballare aia i rumori di jazz tranquilla la saretta allora ah io sai perché non volevo ho visto perché non volevo come cazzo si dici volevo mettere l'applicazione OBS ah l'ho tolta di qua esatto frank bentornato platoon 2 eh frank no raga ma internet mi saranno a buttare a quanto va a quanto paga che consiste il termine va a buttare come dirà quando sto incalzato eh ma c'era intanto lontana il router no ma non è questo il problema c'è mi non è questo il problema ce l'ho vicino e il modem va proprio che si andava a buttare ah ho capito e questo il problema e tu è già finito e tu usa internet quando lui è in casa allora quando il modem in casa quando va a buttare stai tranquillo lo lascia tranquillo non giochi giochi offline e quando invece è in casa sfruttite la linea sfruttite la linea allora carl e ale fuori hai metà sotto se no e tu padre mio il sindrome della minecraft la creativa qua c'è qualcosa che non va sta uscendo gente guarda un 5 l'avventura di sale del suo cricetto croma si si qualcosa non va 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 fermi 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 senza codice ci deve essere qualcosa ed ecco fantino super fresco bagnato in testa il biscotto vale fai me è entendido quindi abbiamo abbiamo 11 persone che parlano e solamente noi giochiamo non lo so caro va bene io non ci faccio più a chi è ah wolf scusa e lo so ma non tiene un nome wolf così è questo in tedesco inizia a parlare con google parlare con google ma è facile non entra una persona è stato da blando in chat si è convertito in una chat siamo il primo canale va bene sì che passa che non le dicono le persone lo stesso sta dicendo Doc ora che sembra che ci sia qualcosa che non funziona perché abbiamo un montone di persone che sta intendo entrare che non funziona che non funziona è un'unica cosa è dattina papagna Doc ah premia o la bingo bingo viva la pereza io non mi ricordo come si faceva ti ricordi tu stai buono zitto ah è super handicap match wow mi sa che è meglio che passiamo a mario kart sai stasera si voglio no oh frank ci facciamo la mario kart mi sa che è frank se ne è andato e non ritorna più è il frank delle 7.30 senza lui ma dio ah no si oddio il flow il flow era troppo bene il livello 6 ma non mi sembra che si muova come il livello 6 sai vero ah per niente proprio mannaggia la pupazza mannaggia dos versus squadronomona non è nada ultra handicap match no è veramente la squadrona mannaggia la pupazza mannaggia la pupazza troppo no quello che porti in testa ma la testa grossa l'hai visto? io non lo vedo e puccioso mannaggia te lo giuro oh tedesco in tedesco si dice tipo deutsch sì 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 proprio non si scrive così ma si scrive come nel ah non legge no? non lo so non si scrive così ma è così no è impossibile ci sono di già tutti dai e questo è già bailando in tua base allora dos contro quattro la ingestizia mi ha mi ha mi ha io non faccio finta di niente io tambien quando non vengo Yuri Yuri di nuovo spadun spadun ci sono solo pistola di ghiaccio say what? no colore sono di colore di vernice sì sono tipo oddio chi è? non si provare più ma perché? fanta non dovevi ammazzarmi io lo stavo facendo ognago ognago contigo ok voy a irme para che non lloreis meno mal cari è impossibile impossibile poi c'è un mago lì che c'è questa cazza di testa grossa guarda mi fa il timido è il mago timido dai 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 che abbiamo vinto carlo te lo permette però pingu ti avviso oggi hai algo che non va in spadun e lo mi assaguro è che pronto vabbiamo a mario kart oddio nessuno vuole più bene lo youtube una volta questi ragazzi impazzivano per me per i miei click to show per i miei click bait 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 guarda vediamo se l'applicazione funziona siamo pronti guarda guarda cosa posso fare con un dito splatoon scelta alfa 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 guarda scelta ragazzi hanno implementato con obs la possibilità di usare un'app dal cellulare per usare obs bellissimo bellissimo però io schiaccio col mio ditone col mio ditone schiaccia e cambia io non devo più entrare all'interno del programma per fare le cose non lo tocco più il programma me lo pienso loli me lo pienso oh chisaretta mi faccio diventare tutti pazzi come 7 ma perché 7 raga mi stanno girando le balle perché 7 hey questo non lo leo hey pistola cade in basso come l'MD pistola cade in basso sono ancora in piedi goku ma entra cari chi è un'è chi non si è un'è ti amo creo che ti amo creo che a vosotro osamo mass hi gaiati i didn't see you ya sta su scritto loli Sean Kelly come il dito Sean Kelly ah è l'amico di non si chiede è l'amico di Sean non mi ricordo no non ho giocato no se uno è nadie dio io non lo intendo creo che la parla vale Mario Kart 8 Deluxe è come se dovessimo fare Mario Kart 8 Deluxe adesso si in Kelly ah you're toast toast oh gosh oh my god how could we ever have recognized you è venuta Kaylee 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 ora viene Kaylee e Kevin Kaywin ma perché è partito da solo Ger no no allora il controller è qua non lo so non lo so poteri mentali paura vale Kaylee io ho il real Kaylee non guarda Discord che è che la parola spread un dos e la va su e che è una istanteria poi morio kart alfa 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 ulla 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 chissà perché questa là c'è sempre qualcuno che devi dare oh Cristo ma cosa guarda i capelli si i capelli i capelli si però questi si è mangiato tre don si è mangiato tre don povero Ratti ma Ratti almeno se non ha preso una foto pelata alfa alfa ulla 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 la schiaffetta quando morì un nome rivel oh ok toast quindi è Sean ok ingest quindi dobbiamo dire benvenuti 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 oddio quanti no era meglio che me ne stavo in Corea a fare le bomboniere c'è una cosa sola che faccio bene sul lavare solo le vetri e li pulisco bene infame era meglio che te ne stavi in Corea ah ok ok quindi shall I call you Sean o Toast is there a pass past e fasul contrasegna via yeah the fifth five fifteen four three what forty one chi è Toast non voglio giocare con Toast he does not have love toast guarda ma comunque non sta ridendo per Toast diggliela Toast I'm not laughing for you for you about it toast 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 ce l'ho toast con mom arm oddio no non ha codice comunque digli al tuo amico cosa vuol dire no toast we don't have code I think we will restart sky ban eccolo sky ban call me toast though ok ok toast call me toast 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 again Fanta non ti riesco a capire eh Jess Fiocco senza occhiali no in realtà ha scritto Jess Fiocco senza occhiali perché prima ha scritto non vedo bene sì questo l'ho capito e poi adesso sta scrivendo che sta giocando senza occhiali ascolta Fanta non mi mandare la moglie in tilt che non capisci un cazzo per favore fai cose di cose semplici ma voi poi vedi Vefo drutta vedi Fanta levati la matita dagli occhi Fanta è meglio ti hanno raccontato la bugia le forbici dagli occhi e forse inizierai a vedere meglio sì credo che ho avuto a cuore Mario Kart chi è Loli no vedi che non lo tiene no no non lo so adesso vediamo come va però mi è roma sì io sì che ho cucarello a scudere grande ma non ci credo Karl ti sta bene Karl hi hello che è my Japanese friend sempre dirlo si si incazzano I love you ma secondo me vuol dire vaffanculo che lo stai dicendo in continuazione noi non lo sappiamo si è vero ma è formale pensiamo sì ma metti Google traduttore vedi faccio innamorare anche i giapponesi ah vedi che volevo un po' di rilevato hai visto hai visto just love for you I have dots in my name ok toast fine we're used to that weird name oh Saretta buona buonanotte ciao Sari un bacio un abbraccio buon reposo è uno schiaffo dove vai dove vai si schiaccia il criceto anche da parte mia sotto così con le mani e poi il criceto gli fa la cacca sulle mani lo sai la creativa criceto la creativa vai vai già è nostro amico tambien Loli la prima va in tutto il mondo cosa Loli lo dice a 3 persone che chiamano a chiamano dove cerchè di suscrivere mi dico però Loli no devo pensare meno male spero che no non dia really aggressive player puoi trovarmi lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì hai fatto traduci traduci mi vuol trombare mi vuol trombare vai che sta dicendo ma cosa stai dicendo sei ancora in pegghi delle 11 di notte oddio ho schiacciato oddio è stato io oddio sembro una donna è subito pericoloso avere il cellulare sottotolo vai vai che me ne vado in Giappone me ne vado a giocare i giochi della siga vai vai l'hai lì schiacciato cosa cazzo stai facendo non lo so sono morto hai visto mi hai fatto fare tutto sto bordellone per morire wait wait I will translate wait wait I will translate I'm a trap boy I'm your trap boy wait wait I will translate yo yo oh mio dio mi sta iniziando a far paura quasi ce l'avevamo fatta dai 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 tira tira e va e va non va non va perché si blocca guarda non so cosa significa che è il zio ah sei in seia si 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 è i cavalieri dello zodiaco sono i cavalieri dello zodiaco se lo stai inventando è vero no e che è è un fumetto è tu no formile di pegasus sia ii si è il dragone e quindi adesso la chiamiamo seia seia fragola seia la chiamiamo oppure io ho già iniziato ah perché non è mortale no questo se l'è è differente a che chi ha spadato non vedo un caspio sono i cavalieri oh non è impressionante è tutto oh beh no sì in realtà sì abbiamo scoperto che Sean è tose questo non è niente a noi è qualcosa si è bloccato di nuovo bs non ci credo avevo scacciato troppe cose no ok ma perché questo cos'è questo tasto non ci da raccontare per favore tanto perché Joe Lace no idea not me spec why but here are some rules everyone have to follow perché non ah hai capito sì accedi alla chat perché non mi faccio della chat aiuto non sei già dentro no ok sono i cavalieri sì non so se c'è ancora una smith matematica perché facciamo tutto dal mio è che non sai che è passato al principio funziona un par di volte se lo vogliono consegneremo impostarlo ragazzi tranquilli i primi 3 milioni di dollari che facciamo compreremo un mac oddio piano già con il naso questo naso lungo hai sbattuto contro il microfono what team are you for splatfest you can watch the video I even make a video so if you wanna know because I'm not here for brush the hair of the doll no? non sono qui per pettinare le bambole come si dice in Italia è molto maschilista questo Marco Taco oh Marco Taco meno male che Marco ti ha salutato perché sennò passava di sapere di sapere di sapere di sapere che tal? e ti cuta coppi e piacuta coppi Adriane yeah you can add me you can watch the or maybe I have to add you so when I restart the lobby in one match this is the last match I will add you add you add you add you addie ma sei qua che li 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 eh mi sta avendo un problema problema mia ti lascio e vado via che modalità è? che modalità è? E' il doc bipolare Claro, non lo sai Vete, vete Basta Cosa fai tu? Grande E come cazzo ha fatto, cari? Prava Perfetta Ammazzalo E' una vecchia Non so come ha fatto Carl Carl, non è cari Non è cari Allora quando leggi cari Carl ha la faccina, cari no Questo è cari Carl Carl Alessandro Ah vedi Alessandro è uno di quelli che avevamo perso per esempio Che è Alessandro può essere? Non è Alessandro no? No non lo so Ce l'abbiamo già Alessandro Questo è Alessandro qua Non ricordo Sì Sono quegli utenti persi, credimi Alessandro Hi No Sì, è inglese No, non è inglese No, non è inglese È bello No, non è inglese È inglese Credo Ah Un po' mi devo tatuare i nomi di qualcuno sulla pelle Almeno ogni volta non ho sbaglio Uh, uh, uh No, il dottore e la doccia non vanno d'accordo Hai visto? Mi ha messo la doccia proprio in faccia Nella vecchia fattoria C'è tua madre con tua zia Dai, bella Ah, 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 ah E non ha vinto Carl E non ha vinto Carl Vero Cari e puntini, puntini, puntini Puntini, puntini Che puntini, puntini Ah, della fattoria Sì, poi Cari o Carlo? No, doc, devi uscire Non lo so Devi uscire Devi tirare Ecco E il terzo giorno Il doc ricreò la sala E vide che fu cosa buona e giusta Ottocento E come dice lo zio Puppa No, non lo dice lo zio Però Che cos'è? Cos'è uscito? Turf War? Sì Quale è il ruoto? 8 0 0 0 0 Quanto? 8 0 0 0 0 Non funziona, non funziona Fermati Non funziona Non so come mai Non mi funziona la chat È boh Lo scambista del codico Che si è affortunato Non so perché Cari a Carlo No, fammi entrare il gioco Chris Posso fare Edit Your video Name Titolo Posso far tutto da qua Però non Non mi funziona la chat Sì No, no, no Alessandro You are not the only English Soul Soul Chi c'è? C'è Soul Sin Sì 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 Mi fanta Eh? Ufo Ti giuro Alessandro Adesso Perché il spettatore a few Italian but right now they're well at this hour not so much but they are lonely so guarda che così ti crascia preparati vedrai no succede veramente non è uno scherzo ciao guarda questo titolo lo capite voi io non ho british ma ho solo detto che cosa questo è un po' mapo 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 se mi senti sappi che ti sto guardando sappi che ti sto guardando sappi che ti sto guardando no it really depends on the hour alessandro depending on the hour you can find people from different parts of the world ha visto funziona devi fare sempre quella cosa di quando aspetti non c'è proprio flor lo sapevo incitamento alla dormire in streaming non si noi lo senti mamoco c'ha dei problemi nel joy bad ehm c'è la Twilight EEB è morto manco no mamoco Buongiorno a Tuleman, Pedro Scorch Hola Eccolo Scorch Ese Scorch Che tal? Io ci sono Ma non ci voglio creare Posso fare non ci sono Magari chi è? La salita di Karin Chi? No Karin Karin No, si Karin è la sorella di Karin Oh Karin Ma Karin chi è l'ermana di Karin Ora viene Karin Anche Che è l'ermano E Karot Anche E lo zio Karot Karot E lo zio di Karin Tutto lo che tiene in Karin Tambien Karin E di Karin Porreste lei Come sto giocando male Lo sai Si vede che sono un sacco vuoto adesso Che tal il cumple di Kelly? Non ricordai sul cumple? Mamma il Kelly cumple? Il cumple eterno Non cattivo Ma non cattivo Ma non cattivo Non cattivo Ma non cattivo Se vuoi cuple Non cattivo Li che non cattivo Ti ricordo che mi schiavo Il lusca Dovevi colorare Colorate Oh che è una flora bravo bravo good job floor non lo so marco ultime carla persa ancora cari non è carlo e cari 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 a non è cari mago cari forever pero me daria más tienes que estar dando ahora entiendo lo que no entendías jaime que si no quieres el otro chico es que no caía no es es por el disco está aquí jugando es verdad no aparece la icona la pantalla cuando él habla cuando él habla no aparece creo adiós es vero el controllo di marco si era auto ajustado ok si no si vede l'icona non si vede l'elettro chat cellino dove c'è la ruota no ma qui si a si io volevo cambiare arma sai si sono una piccola comunità di recupero i ragazzi disadattati il resto va verso nella traduzione dai fai il perso del cane spiegacelo spiegacelo come fare che una persona non parla più incitala a parlare dai franga racconta racconda franga we are we are the world we are the children guarda che a me mi prende in giro molto io we are the world we are the children no no ho detto we are the world we are the children e la dobbiamo cantare la prossima volta che viene la cantiamo what is iodi ehm i love so much patatine questa è la traduzione di Diego di dirlo no no? ok questo le ha risposto è la mia è la mia è la mia è la mia hai che essere rapida pingu perché se no qui coges rapido la fama del che tarda demasiado di aprire il botone se no Xu ahha scotch scotch e vete 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 una volta non abbiamo in una semana no dice che stavamo studiando un montone ah ma il resto ha soluzionato un montone di cose questo periodo hai scoperto hai c'ho un'esculazione? hai scoperto? hai ho un助ato? manuuu manu? manuela Manuela? Si, che tal? Grande Manuela. E chi è patatine? Ah Loli. Manuela non farlo fesa. Loli pregunta che è patatine. Chi è patatine? Patatine con la H. Patatine! Loli Lola, patatine è come dire patatine. Patatitas. Patitas. Come si chiamano? Per fin me saluta. Come? Manu sempre te salutiamo quando te vemos. No, a volte tu hai finta di non averla per non salutarla. Che ti sa? Madre mia. Non la conosco. Io non so chi è. Ma di chi è il cane sento in live? Senti il cane. E Frank? Cosa c'è? Oh ti stanno offendendo Frank. Ma che dici? Penso che sia... No, no. no? Ah, il cane era Frank. Frank, vedi? Non suona bene Frank. Non potresti spiegare il channel voice e il discord? No. Che è? Manuela. Eeeh... No. Sicuramente non è che cambia. No, mira Manuela. Il chat del discord. Ora sono... E sto usando un'app che si usa con discord. E intonse tengo che... Aggregare un canale. Però... Tambien Frank che è moderato al nostro... Partesipa. Perché, boh... Mi aiuta un pochino nella chat a moderare il canale, tambien. E' mas veloz che è il comunica conmigo in maniera mas diretta possibile. E... Avrà un seguro diretto con de me saldrà la locura di hacer parlare un par de persona. Spero, non è una cosa fondamentale. Che chiede, mi chiede implementar. Ah. No, ma io chiedo a parlare con la persona che collaborano conmigo, intende? Claro. Entonse... Se avrà passato un chat, Frank me lo dice, io lo lo dico subito, lo scuscio subito e non in 5 secondi. Io vado a servo mia. E scusami di... Però non ti preoccupi, Manuela, che è il dia che chiedo escusare a Boz, sicuro voi a tenere in considerazione. chiaro. E scusciarci cosa parlare non... No? E' meglio per lo chicos e scusciarci cosa parlare, credo. Ah, buono. E' stato mas agradabile. Ah, chiaro. Sono smasso chicos che chicos. Ho ricevuto i tre petizioni per Frank ti per favore non ammazzare. Che sta succedendo? Ma io non riesco a capire questo qui come mi è ammazzato con un laser, un cecchino laser. Qui stiamo qua cacchierando, cacchierando. Mi sei timido parlando. Mi sogno solo è parlarti anche per voi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Minchia. Io ne ho parlavo. Vais a traumar la camionera, è vero? Non ci ho avvisato. Mi ha sentito di nuovo questo cane, ma... Iuri. 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 C'è il lag, Iuri. No, è stato fatto un po' di secondi fa un poco, no? Così. Avrà un po' di ritardo e quando io parlo, mi arriva dopo. No. Vi potete... A dove senti? A dove senti? Cari. Ah, cari, a via di ciò che teniamo la vozza da camionistare. Ma... Sorry, sorry, carl, sorry. Chi è? Cosa ha fatto? Cos'è sta cosa? Perché mi è ammazzato o che? Eh... No, ti ho uscito la carne. Ce l'ho ammazzato due o sette o otte volte. Beh, sì. Io ho giocato con una... Una carne! Per quello mi sta chiedendo di per favore non ammazzar, che non le ammazzi più. Yeeey. Mi ha matato come siete volte, e questo non si acaba di dir... Ti ha pedito perdono, Karl. Victorin, hola! scusa perché se lo prende in voi l'appena spiegato ok tu li vedi qua no allora guarda bonbon sarà rovinato solo su un impegno su fortuna a fort night vedrai a verso le due questa notte che ma che che bon smette di giocare a fortuna mi si riscriverà il mio canale perché sarà così basta migliorati posta andando del mio con quel messaggio non parlerà facilmente poi elmad elmad moderatore la gente si sta lamentando perciò anche di pensa che salterà quel mod e niente vostra storia ante la vita antes della vita victorin claro por eso lo ponemos victorin no carl carl che dices loli por favor loli a me gusta la frank ti dice che non accetta le tue scuse dalle detacco dalle punta guante esco io va super kawaii desni por quante dici migliore no por mago no fu di per due volte e no ma mago preferisce stare fuori mi sa cura e manuela buona buona non c'è manu un abbraccio mi descansa andate lo spiego io guardato la bond è sempre impegnato fortuna e se vuole mago non vuole parlare quindi no 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 fanta non posso non è pensabile una cosa del genere pensa già in tre persone come ci tagliamo le voci tante volte quando diventa confusionali immaginati in cinque o la carla che guapo verte dove stas no comunque non è sostenibile il menino traver carla don't get cook stay of the cook frank alti dice mi voleva vendicare vendicare di di tema sono nello stesso team vendicarsi se lo sto traduciendo carl 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 stay fresh don't get cook stay of the cook le arreglaron la torre la torre a me manca una cuenta oh mago a me manca una cuenta si anche a me anche la ho domanda anche se lo ha domandato anche se lo ha domandato anche se lo ha domandato ti recomiendo di cambiare la arma grazie manu manu è in serio accetto però ti dico la arma che mi gustano sono tre e le vuoi cambiando di vese in quando mi gusta per il sentito di avventura il pincel perché tengo che a cercarmi molto per ammattare per ammattare quindi tengo che essere molto listo io non credo che voglio cambiarla perché mi da il sapore del cuore il pincel me lo da però grazie grazie oh iuri un abbraccio bello buonanotte riposa un abbraccio a iuri e a sion piripipiri pipiri 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 che diciamo oddio e così cade il microfono il microfono cade basso il microfono cade basso come le metti il microfono cade basso come le metti il microfono cade basso sono ancora in piedi io lo invento non so se è molto utile canta canta si merece mas penso quando le sale vitto si no tu 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 eres muy buena con lo sniper mi gustas un monton si si questo è davvero lo dico ti ricordi ahi chi è questa mano che tutto il tempo mi sta e vea che la ragazza madre tutto il tempo a matarti eh entraba quando non parlabas molto per qui dicendo oh questa mano ora mi va a morire oh saluta a Manu dai ciao Manu buona notte descansa descansa ciao guapa ciao guapa che me lo dire ciao guapa super hiper duper super hiper duper sì tardò molto perché la lluvia e la nebbina non lasciano avanzare se quitò la torre antigua e se puso la nuova nel monte osea che hanno stato un tempo senza internet per lo che io entendo claro e allora va allora la tocchè in twitter si vete il taco nel tutto ostras Sì, sì, sì. Conosco, conosco la testa di Leone. Conosco la testa di Leone e ti dico fai attenzione perché cresce abbastanza ed è abbastanza testato come coniglio. Che dice? Adesso devo comprare una spazzola speciale per la sua folta. Per peinare la capesta di Leone. Adesso voglio cercare come è. Come si chiama? Il coniglio testa di Leone, sì. Vado a googleare. Io non ho avuto uno. Prima io ho avuto un coniglio. I conigli sono simpatici, sono veramente simpatici. Solo che quando li ho presi io, logicamente erano, ti parlo di tanti anni fa, adesso ci saranno. E uno come questo? Sì, come quello di sotto. Questo? Quello, quello. No. Quello è nano, vai. Sì. Ah, ecco. Tanto pelo. Povero tanto pelo. È come un chihuahua dei conigli. Sì. Ah, il chihuahua, il come si chiama? Il chuchu. Il chimaco. Come si chiama? Ah, sì. Oh mio Dio, ma quanto sono pucciosi sti conigli. E lo kitty. Perché mi hai detto? Perché ho googleato conigli? Sono troppo belli. Questo, basta, basta. Wow, la piramide. La piramide di Kuma, chicos. Inconiglio il nano, testa di leone. Oh, Fanta. Fanta? Buonanotte, Fanta. A domani, cari amici miei. Ciao, ciao Fantino. Un abbraccio, class, class, class. E buonanotte. E buon tuposo. E buone botte. Buonanotte, buone botte. Buonanotte, ragazzi. È bello. Porca tu. Io por qua, eh? Perché non mi faccio scegliere la chatte? Io quello non mi faccio. E va su, come si avessi sp Tallace. Un abbraccio. Ma guarda e scopertagione. De Karni. mi dice un engaio, io mi equivoque mi dice un engaio e salio otra cosa por lo cual, cada uno era un team vale? oh, elman però se team perdiò tu 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 chi era l'ultimo? salica allora una sicuramente Carl e poi la cosa Carl, Carl stava su ultimo? si 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 ho detto pure lui si preparano per il tour turistico di Igo di City tour turistico io farei un non so un po' di 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 survival che dici? c'è un po' di survival stasera non tanti ma casi sono golden diamond si è verba lo che dice l'Oli è verba io lo potevo confirmare cosa? che non gli arrivava a fare 30 anni a volte a volte c'era una quando ancora passava per qui a jugar statun che ora solo juega rocket league tenía un miedo de l'Oli e al principio me acuerdo che l'Oli era sempre l'email mas alto te acuerdas? l'email l'email ok Marco è solo commento su di voi ma non hai una squadra da tua parte la mia Non mi sento che mi sento così Non mi sento a leggere, Edmar? Edmar ha un po' di volte che dice che è stato l'ultimo quando è... Mi entera! Perché non sape leggere! Carl, non ti preoccupi Ah, ok? Che buono! Però Carl, cosa facendo? Cosa? Tu sei triste, Sola why Frank qua stanno chiedendo di attivarti da parte da Mako Frank is oh god this is a long word undefeatable trio let's see bravi nel vuoto l'ho lanciato è strano questo no è come se il team intero lo dividessi in due in parte ma è Mako la doppia bomba è vero alla fine ha servito quindi stai dicendo Mako che stai sacrificando il tuo stile per avere questa perk è vero me lo sto ripensando è morto sicuro è in questa mappa dove non hai uscita come ti ho è vero me lo sto ripensando ma ora è vero me lo sto ripensando Eccola, la nostra igo di francese. Che che! Che che come sempre, quasi al final... Si, tiene un poco un iman extraño. Victorin. Tengo que leerselo Victorin? Venga va, se lo leo. No, che sei il migliore! Siiii! Ma che, che... Tengo un che come Victorin. Si, non abbiamo cenato, chico. Non abbiamo cenato, tengo un hambre che non vedo ora mismo. A me gustaria verlo streamar. Si, si, si. A me gustaria verlo streamar a ellos. E ma, a treinta e pico anni, spero. No? Ah si. Después un día largo. Pongo que tiene una niebla detentiva. Una niebla. No, 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 Victorin, no, no. Que robo. Esto no se hace Victor. Esto se hace solo con la pizza. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 quando ero un nino mi diceva che dottorio mi stai dicendo, tio? come può essere? no, no una ora, sono... tengo che... ricordatevi di miei parole, ragazzi si perché è una cosa della vita guarda che merda! metti la cosa, sei... sei in un loop ma sono solo bomba, dai ma come fa, come fa ma cosa vuoi? ma cosa vuoi? Loli comenta meno tonteria si comenta cose più interessanti o creativi come antes o juega che dice questo? Carl... Carl è infadato per un giro perdito ojo a lo che ti dice Loli abbiamo perdito handicap match o Caz bravo, ma cosa sta bene juega Loli, juega buon gioco ragazzi Carl, siamo in Spagna, come non sarà la stessa ora? carla che si celebra il 10 maio, io sto perdita io ti san 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 no 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 e che bella che l'anni anno è però sta con me perlomeno bene? olè ti ricordi del Stylita 64 ahahahahah 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 ahahah ahahah no nio nooo e sabes que Carla? devi aspettare buffoni devi aspettare ahahah ahahah sauti san la conspirazione degli illuminati Carla lo que decía es que fíjate tu que en Alemania incluso se otro día diferente va cambiando de sitio a sitio por lo que entiendo yo manco contro madre me se stul I'm a soul man piripipi piripipi estará contenta tu madre pingu questo qua no il video della scelta si no si ma se 2 persone estando ai poli del mondo e possono posano una fetta di pane fanno un sandwich con il mondo no no maco che cosa che cosa che cosa che cosa che cosa che guai quando è il giorno quando è il giorno si Carla totalmente è la di qui c'è doit per se a qualcuno ha lasciato dubbi di chi ha chiesto Doc e il Splatfest mi piace quel piccolo pizzo nel corno si, è activo ci sono alcune persone che dicono prenderselo, mi disturba e dopo alcuni momenti dicono ok, potete farlo ancora qui, ho bisogno, non è ancora là traduzione Mago contro Sol e Martins viene dice Marco contro Sol e Enmatt no, no, Enmatt, c'è te no, non c'è, non c'è oddio, com'è non ho idea come ti dicono in inglese è quando ti perdisci, ah, perdisci la conscienza perdisci la conscienza guarda come cazzo è lungo, non c'è Enmatt, buon lavoro, Enmatt dopo tanto tempo ancora non mi piace sta mappa cioè, non mi piace per niente mappa, 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 devi vincere per me ti prego, devi vincere devi vincere, vincere, vincere vale, mappa, vale vai, vai, mappa, vai, ti prego, vai vai, mappa, grande, mappa ander avitori, mi pugui cosas muy raras muy raras porque pan, tío io quero, io quiero pensaba que rezabas por Mario Kart o algo así io non riesco proprio a muovermi di lì la chiusura mentale no no fisica che poi è una merda che per andare da quella parte di là allunghi tantissimo la strada perciò loro se ti devono chiudere ti chiudono sempre su questa non so hai due o tre mezzi per arrivare in 100 più o meno ma prendi quello che prendi dovrebbero fare un cazzo di pennello che dà un po' di più di colore un po' più largo più lungo ti hai provato tutti gli altri bene bene si si sono delle chiamate andate a male che meteorito stanno rompendo il mago madonna ciao che lì non è possibile ma che lì oh che lì adios seguitemi allora dai allora che ero leader adesso fai un po' grezzo avanti stica da pierne spra che vede spante il ma spattuto adesso 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 non ho visto gli ultimi due, guarda gli ultimi due oddio no ah tu, il cadente è cari il piatto piangere sono un guerriero lui mi ha affrontato qui due americani per il sole, vedi non ho visto quanto è migliorato si non lo saprei meglio dire che ho giocato la vita diciamo che io 23 kg non ho detto ancora non ho visto se va male oh mago perchè hai sbagliato bravo vittorino un abbraccio l'abbiamo pronto pronto vittorino ciao e anche mago, buonanotte mago no perchè mago si è andato così buonanam non lo so absolviò e continuare dios l'abbiamo 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 faccio io il casuale ok, oggi è il dog randomness oh mio dio oh mio dio allora ah ma sei quanto Carlo Carlo a sad story io questo non lo capisco queste sono cose che mi fanno incazzare come può essere? cioè se allora avendiamo i numeri di stasera per me youtube dovrebbe essere se avremmo noi dovremmo revisionare youtube sai dovrebbe essere il contrario non youtube che revisiona noi perché fa cose strane veramente non è credibile come picchi di 30 allora andiamo a questa mega partita e poi andiamo a mangiare si foto per favore ok prank ti dice Carl che ti ammazzera centomila volte centomila volte oddio ti hanno dato un mese che sei per il valore il libro è proprio un grito che che cosa non è solo il sniper ma dai ci sono messi i sniper sti stronti se non è ma l'ho capito sta lì non è è l'ora è l'ora? è l'ora si abbiamo preso spettatori perché l'ora oh no credo che si raffiere dentro del juego no? all'aspetto che si è scontato più antes cioè no ora è giusto e credo che erai no perché? no mezzanotte mi avvicina no non sono riuscito a ammazzare nessuno veramente metti su un'acqua si ma la spaghetti l'abbiamo? buono male aglio olio veloce con minecraft tanto scusate l'acqua che mi esce dal rubinetto non la vorrete? non la vorrete citando il nostro Pieri Re non me lo credo Enmad I have to eat eat bravo tolmo vi ricordi sono Enmad va Enmad è 11.35 pm e non abbiamo avuto il mio amore non posso giocare no non ancora non abbiamo avuto il mio amore non credo che il suo cuore è solo vedo su un occhio che dice chi dice chi? chi? carla carla buon ragazzi mi despido vamos a cortar il pastel a mia mamma le facciamo una comida piccola famiglia wow se mi chiamo un po' con l'arroz però poi prendendo un po' carla che buona carlita grande grande io puoi di star contenta tu madre è un abbraccio a tutta la mamma ciao carla sta pronta ciao carla saluta carla frank sì frank non è un antipatico non è un operatore sono antipatico no tisane non è un tisane no tisane tisane sorry man tu hai scritto ho dovuto andare a cuocere parla tu abbiamo di cuocere tisane perché è davvero davvero tardi e non 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 avuto di so hungry but we will be back for another stream later but I don't think it will be splatoon unfortunately not ragazzi ci vediamo dopo oh frank tu rimanete in chat un saluto va ad alessandro a loli jaime carla carla nintendo madness soul chi c'è chi c'è chi c'è loli alessandro loli loli tisane frank frank che hai un messaggio frank da parte da cari che dice che si vendicherà quando possa perché sicuro quando può che li ammazzarai tutto il rato è certo splatoon dice car claro splatoon vamos a vedere una una rapido facciamo un vistazo rapido per aquí kuma kuma che tambien sta por aquí che bella il luogo al finale insegnare la foto da sol da sol che guai kuma m'allegro sol e cari soli e cari e ricordate il nostro moto non ci riesci con le mani questo questo l'ha fatto prima fantino l'ho visto fare il primo la prima persona che l'ho visto fare questa cosa portare via la persona vediamo tutti ma quanto cazzo sono british guarda no 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 oddio no no oddio no no shania muoviti 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 help me help me no 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 dove fai dove credi che fai no no oddio sei entrato in lobby esatto no fail big fail bene ok allora qui possiamo una cosa ragazzi questo è bellissimo no l'altro che è un po' più lontano ancora è troppo carl carl hai morto sorry che soul bene you're so tiny fail il maximum bene 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 ricordate il nostro motto grazie mille 800 volte boom bene bye bye guys see you later if you want to chat with us you know you can enter in the next live stream in we chat no problem so a big ag 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 and thank you for playing bye bye grazie per jugar chicos bye 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 bye